Quest'anno si riparte alla grande, penso perché abbiamo fatto molto bene l'anno scorso, siamo tranquilli e bisogna ripetere o migliorare quello che si è fatto l'anno scorso, penso sia quello lì l'obiettivo. Tutti gli anni che sono qua in Italia, penso che queste qua sono state le vacanze più lunghe e a me personalmente mi hanno servito tanto perché sono stato con la mia famiglia, l'anna argentina che di solito mi manca tanto e sì, abbiamo staccato un po' le spina e adesso bisogna lavorare al massimo perché forse questa è la parte più importante di tutto il campionato. Io sapevo soltanto quello che usciva nei giornali e pensare di andarmene, no, se ho fatto soltanto un anno qua nella Sampdoria mi sono trovato benissimo e penso di continuare qua. L'impegno che abbiamo avuto durante tutto il campionato l'anno scorso penso che è fondamentale per tenere quel livello alto che abbiamo avuto l'anno scorso. Adesso sto meglio, io ringrazio tutti i tifosi perché veramente mi hanno appoggiato tanto e sì, fisicamente ho avuto il problema al polpaccio però adesso sto bene e sto facendo il ritiro alla grande per riprendere questo campionato proprio così. Poi conosciamo come è la curva della Sampdoria, ti carica troppo e poi sentire quell'Ugo-Ugo ti viene voglia di fare tutto il possibile che puoi fare per vincere la partita. Penso che quello lì sia il ruolo che più si adatta a me perché provo a spingere ogni tanto in avanti però sicuramente difensivamente posso dare il mio meglio. Forse la partenza, le prime giornate non mi è piaciuto come è andata, poi sicuramente il girone del ritorno si è fatto molto meglio, bisogna mantenere quel livello lì. L'espirito del gruppo che si è avuto l'anno scorso penso che sia stato fondamentale per fare quella nata che si è fatto, penso che è molto buono. Sì, lui è un ottimo giocatore, ha molta corsa però ne ha anche qualità. Io l'ho conosciuto, ho giocato insieme tre anni e so che può dare molto alla Sampdoria. Io penso che quella lì è una cosa molto difficile che accada però sicuramente se c'è da scegliere vuol dire che sto facendo bene nel campionato che è il mio punto, quello che voglio puntare la testa fare bene nel campionato, poi se arriva qualcosa benvenuto. Io l'ho visto poco però è un bravo ragazzo, io l'ho conosciuto adesso qua in ritiro sto quasi tutto il giorno insieme, posso dire che è un bravo ragazzo e poi soprattutto come giocatore perché ho visto già dall'inizio si è adattato molto bene, anche se non parlo l'italiano, è già parte del gruppo e sta facendo bene anche negli allenamenti che è quello più importante. Ci tengo tanto perché veramente l'anno scorso siamo stati lì ad arrivare ai gironi e quest'anno bisogna fare meglio perché penso che abbiamo i giocatori, c'è il gruppo e c'è tutta la possibilità di arrivare un po' più lontano. Un saluto grande per tutta la curva e tutti i sostenitori della SAM.